Termina 1 a 1 la gara tra Cerignola e Taurisano giocata sul campo neutro e a porti chiuse dello stadio Fad Stocoppi di Ruvo di Puglia. Una partita che ha vissuto momenti alterni, soprattutto nel secondo tempo, più vivace rispetto ad un primo tempo dove sul nostro taccuino abbiamo registrato solo tre azioni degni di nota. Cominciamo al 27esimo con un cross di Brigante, uscita a vuoto di De Blasio ma Foglia non riesce ad approfittarne. La risposta del Cerignola arriva al 32esimo con un cross di Grieco, sicuramente tra i migliori in campo per i suoi, colpo di testa schizzato di Conte, alto sulla traversa. Al 35esimo ci prova il Taurisano con un tiro piazzato, un calcio di punizione con Antico, tiro violento ma De Blasio è bravo a respingere con i pugni. Nel primo tempo non c'è nulla da registrare e si passa quindi alla ripresa con un Taurisano sicuramente più concentrato e determinato rispetto ai giallo-blu del Cerignola. Al primo minuto i Salentini in avanti con un traversone per Foglia, bravo a sbucare alle spalle di Compierli ma non a concludere. Al 18esimo incursione in aria ancora del Taurisano con Secli, gran botta respinta dal portiere fuori dai pali. Arriviamo al momento del vantaggio della squadra ospite. Il 29esimo viene atterrato Bernet per l'arbitro e calcio di rigore e dal dischetto Foglia insacca. Rivediamo il fallo su Bernet che ha deciso il vantaggio del Taurisano. Il Cerignola guadagna metri e alcune sostituzioni da parte del mister notariale in tribuna, così come anche il suo collega del Taurisano, Favonio, portano il Cerignola appunto a guadagnare metri e a prendere il pallino del gioco in mano. Al 38esimo un tiro dalla distanza di Greco impegna il portiere Potenza in angolo. Ancora dalla distanza ci prova il Cerignola che non riesce ad entrare in aria però ha dei buoni varchi dal tre quarti. Il tiro di Tarantino questa volta è dal limite, pallone che tocca un piede di un difensore e per poco non beffa Potenza che con un pizzico di fortuna recupera il pallone all'indietro. Nei minuti di recupero arriva il pareggio del Cerignola. Questa volta Greco riesce a inquadrare lo specchio della porta con un gran tiro da fuori aria che si insacca nell'angolo alto a sinistra del portiere Potenza. Uno a uno tra Cerignola e Taurisano, un risultato che forse non accontenta nessuna delle due contendenti che comunque si trovano a pari 23 in classifica ad una distanza di 8 punti dal Corato che per loro rappresenta la formazione da inseguire per una salvezza che a questa giornata del campionato diventa sempre più difficile.